L'annuncio dell'assessore regionale Vettrella sulla ripresa delle corse della metropolitana ha suscitato dubbi e timori al Comune di Salerno con il responsabile della mobilità che vorrebbe risposte sulle caratteristiche del servizio che sarà assicurato. Secondo Cascone non sarebbero ancora giunte comunicazioni ufficiali sul numero di corse con il pericolo che possano essere di meno rispetto a quelle garantite fino al 31 marzo. Il Comune ha già fatto diverse attività in tal senso quindi non abbiamo nessun problema. Il progetto sulla rimodulazione dei servizi urbani è partito. Martedì ho fatto una riunione con i sindacati e con l'azienda proprio per iniziare anche a seguito dei lavori che vogliamo fare in piazza Ferrovia per spostare il capolinea del CSTP. Inizieremo questa modifica graduale delle linee proprio per centralizzare le varie fermate della metro come dei piccoli capoline o punti di fermata abbastanza significativi. E poi la questione trasporto su gomma con possibili ulteriori contraccolpi su un settore già in crisi seppur limitatamente alle corse extraurbane. Io non ho ricevuto nessun documento ufficiale quindi non posso rispondere fino in fondo. Dal punto di vista di quello che io so e quello che noi vogliamo fare è andare avanti sul programma presentato in regione ovviamente in bozza ad ottobre del 2013 che siamo pronti a far partire e che avremmo garantito che sarebbe partito nel momento in cui la metro avrebbe avuto una continuità definitiva perché spostare e riprogrammare tutte le linee e poi non avere la metropolitana sarebbe stato un disagio per i cittadini salernitani. Anche Cascone comunque è d'accordo sull'ottimizzazione e sull'integrazione attestando i capolinea alla Rechi dove tra l'altro è stato già preparato un progetto per realizzare una bus station nei pressi della Curva Sud con un centinaio di posti a disposizione per i pullman. Il progetto del Comune di Salerno è quello di realizzare una bus station allo Stadio di Rechi ovviamente cercare di attestare lì tutti i pullman di linea che attraversano la città o se non tutti la gran parte magari salvaguardando il passaggio per gli orari di pendolare, di scuola ovviamente per favorire chi viene dalla provincia in modo da avere due risultati il primo un utilizzo maggiore della metro perché ovviamente poi chi si vuole spostare utilizzerebbe la metro lì vicina e un altro anche dei concessioni alla città dai tanti pullman che quotidianamente passano.